Musica Buonasera dalla VapTV Studios, mi trovo in compagnia della bellissima Eleonora che è una modella hostess della Supercar, ci troviamo sempre allo stand della Supercar nella Fiera di Roma al Motodeis, buonasera Eleonora Buonasera a tutti, ciao Allora, come sta andando questa giornata di fiera? C'è abbastanza gente che circola, che ti chiede chi vuole fare foto con te, con le macchine Raccontaci un po' come sta andando Allora, noi abbiamo iniziato a lavorare stamattina alle 9.30 e devo dire che già a quell'ora c'era un bel flusso di gente, sì Rispetto all'altro anno posso dire che c'è ancora più gente e niente, le macchine come sempre sono bellissime quindi sono apprezzate sia da noi addetti ai lavori, tra virgolette, che dai visitatori e le foto si fanno continuamente, d'altronde è il nostro mestiere, quindi non c'è problema 3.000 click, quindi avrai avuto come oggi e anche tutto quanto fino alla serata Senti, tu sei sempre presente qui con loro o sono diversi anni che segui la Supercar? Sì, sì, questo è il terzo anno che seguo la Supercar, infatti colgo l'occasione per invitarvi al nostro evento dal 20 al 22 maggio abbiamo un appuntamento sempre qui a Fiera di Roma col Supercar e questo è il Moto Days, quindi è più incentrato sui veicoli a due ruote mentre il Supercar sarà incentrato proprio sulle quattro ruote sarà ancora più divertente, almeno a mio giudizio che amo molto di più le macchine seguiamo il consiglio di Eleonora, quindi mi raccomando 20-22 maggio, segnatevi questa data allora grazie, grazie mille, ti lascio al tuo lavoro e buona fiera a presto a presto, ciao a tutti, un bacio ciao ciao